15 milioni di euro per la sicurezza nell'edilizia scolastica. Il Governo regionale ha infatti stanziato tali somme a valere sui fondi POFESR 2014-2020 da dividere tra gli enti locali, cioè aree metropolitane, comuni e liberi consorsi, proprietari dei plessi scolastici siciliani, dando loro anche delle tempistiche precise. Un mese dalla notifica per comunicare l'accettazione dei finanziamenti, 20 giorni per trasmettere l'elenco dei plessi scelti e infine indicato il termine del 30 giugno per le operazioni di indagine geognostica e strutturale degli edifici. I plessi scolastici dovranno infatti dotarsi della certificazione di vulnerabilità sismica che sarà necessaria per ottenere finanziamenti pubblici, come nel caso del PNRR, per effettuare ristrutturazioni, interventi di edilizia e migliorare la sicurezza delle strutture scolastiche. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza le strutture scolastiche della Sicilia, ha affermato il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Troppo spesso in ogni parte d'Italia avvengono disgrazie proprio nei luoghi in cui i nostri ragazzi hanno il diritto di vivere e formarsi in sicurezza. L'azione di prevenzione dunque è prioritaria per il nostro governo, aggiunge. Posso assicurare che la Regione sarà vigile e rigorosa nel portare avanti questo progetto e nell'eseguire poi le opere necessarie a garantire la solidità degli edifici e contrastare il rischio sismico. Il decreto è stato pubblicato sul sito dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, un investimento presentato questa mattina dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani insieme all'Assessore all'Istruzione e della Formazione Professionale Mimmo Turano, in presenza anche del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all'ARS Fabrizio Ferrara e del Dirigente dell'Ufficio Speciale della Regione per l'Edilizia Scolastica Universitaria Michele Lacagnina. Ho condiviso con il Presidente della Regione una strategia che potesse permettere alla Regione stessa di avere cognizione piena dello stato di salute e degli immobili dove portiamo i nostri bambini a scuola e questo ci ha permesso di trovare le risorse e di individuare un meccanismo che responsabilizza i sindaci affinché entro il 30 di giugno ogni edificio scolastico possa essere monitorato, studiato e possa ottenere il certificato di vulnerabilità sismica, requisito essenziale per partecipare ai bandi per ammodernare gli istituti scolastici. 9.629.818,88 euro sono stati assegnati a 338 comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e tra questi a quello di Caltanissetta 134.614,67 euro e ancora 1.894.637 euro ai sei liberi consorsi di comuni per le scuole secondarie di secondo grado e di questi 404.570 per quello di Caltanissetta 3.475.544,12 euro alle tre città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado Inoltre, nel caso di ulteriori fabbisogni finanziari, si precisa ancora nel comunicato stampa si potranno utilizzare le economie derivanti da un precedente bando del 2018 pari a circa 10 milioni